Il circo Coliseum di Sandra Orfei, tutti i giorni presenta un unico spettacolo alle ore 21 e 30, domenica due spettacoli, primo spettacolo ore 18 e 30, secondo spettacolo ore 21 e 30. Non mancate intervenite tutti al grande circo Coliseum di Sandra Orfei. Molti gli animali che prendono parte della grande pista del circo come cavalli, cavalli riconi, oltre 25 serpenti di varie latte, leoni e fecari, tipi fibriani, una bellissima tigre bianca, un bellissimo esemplare di tigre bianca al circo di Sandra Orfei e un unico esemplare in Italia di leone bianco.